Gianluca Masullo, ottima prestazione, grandissima vittoria, grandissima partita. Sì, abbiamo reagito bene rispetto a martedì alla partita di recupero, non abbiamo giocato al meglio. Anche il sabato scorso non abbiamo giocato proprio bene. Oggi abbiamo dimostrato che ci siamo anche noi e non lo fanno dimostrare fino all'ultimo. Oggi la partita è andata bene. Un paio di incertezze hai rimesso un po' a pari con una superlativa prestazione con il super tiro libero che hai parato a Zanella. Purtroppo la mia mente dal primo a secondo tempo è rimasta negli spogliatori. Ho fatto due infortuni, sono stati, due papri. Poi in fortuna sono riuscito a recuperare e con la parola dall'ultimo a far vincere, cioè a far merita i tre punti alla mia squadra. Uno United d'Apriglia che riprende la strada maestra ma che abbiamo visto soprattutto trascinata da giocatori, non i soliti giocatori, ma altre buone individualità che hanno avuto la meglio in questa occasione. Sì, noi abbiamo una rosa con buone risorse, buoni giocatori, tutti alla pari, tutti disponibili, serviamo tutti quanti quindi non c'è differenza tra l'uno e l'altro. Siamo tutti alla pari e lo dimostriamo sempre in campo. Aspettative per il proseguo? Noi proviamo a vincere tutti, ci proviamo e basta questo. Proviamo a vincere sperando che si arrivi sulla cittadina da tutti, al dunque. Per scaramanzia non si nomina? No, 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 non si nomina, non si nomina. Grazie Gianluca. Grazie, grazie.